Siamo con Salvatore Bonavena, appena uscito purtroppo da queste PTV di Ramura, mi stavi raccontando un po' come è andato, se vuoi raccontarcelo anche… Ma è andata bene, ci sono state due mani, sono queste parecchie, con coppia di 10, apre di media position, io gli vado sopra fino a 1300, lui si appoggia, proprio 853, lui fa check, io faccio il 2006, lui fa call, turn è un 4, lui fa check, io faccio check perché a quel punto penso di… o di essere buono perché c'è coppia e quindi ho fatto solo 9-9, perché a terra c'è coppia di 8, a quel punto è check check, river, asso, check lui, check ieri per 24 mila, poi c'è stata un'altra mano fotocopia uguale, sempre 10-10 c'è donna do e già chi c'è, ne ho perso ancora un 5 mila mi sembra in quella mano lì e quindi mi sono accorciato, infine la mano clou in cui io flopo doppia, il ragazzo all'ena destra, abbiamo flopato 3, lì ne perdo 12 mila, a quel punto da corto c'era più quasi nulla da fare, adesso ho giocato un coin flip a resti, l'ho perso, ogni tanto perdo anch'io conflitto, quindi… Svadiamo quella… È stata una… ho fatto una pessima esperienza qui a Vellamore, ma ci stanno anche le pessime per imparare, altrimenti non si impara mai. Ok, prossimi appuntamenti? Il prossimo appuntamento credo di andare al Partouche, quindi speriamo che questa prima serve la lezione. Eh beh, il Partouche per quanto riguarda il Montepere mi merita sicuramente, quindi… Beh, meritava anche questo, ogni torneo che fai merita, non c'è un torneo che non merita, è un altro che merita, quindi tutti i tornei che faccio, se partecipo vorrei fare bella figura, quando va così non è che abbia giocato un bel po' per dire la verità, ma anche io le mie coppie, quindi… Vabbè, mi servirà la lezione. Ok. Ciao a tutti e un bacione. Grazie mille, saluto.